Stefano, il padrone di casa, che cosa ci fa vedere? Iniziamo da qui perché questo qui è la passione di Cristo, che ho fatto appunto per il Corpus Domini di Viverbo e volevo rappresentare la sofferenza di Cristo, diciamo, quasi volente, e credo di esserci riuscito nell'Ocidente, perché ho voluto rappresentare appunto la sofferenza dopo i sassi, le pastonate, le pastonate, le pastonate, le pastonate, le pastonate. Dei soldati romani, questo lo rappresentai. Invece, allora, il profano ci abbia portato due pali, non sono preso la licenza di contegno. No, no, vabbè, vabbè, salve, ma... Allora, questo, diciamo, è il profano, questo rappresenta, io l'ho intitolato Statuette Romane, rappresenta una colonna, Capitello Lorenzio, e le due Statuette rappresentano un po', diciamo, i nostri politici, che sono traballanti e che, diciamo, possono cadere in ogni momento. Invece sotto è proprio una polemica? Sì, qui c'è una polemica sulla, diciamo, la Bolivia, su... Sai che due artisti siamo un po' così. Sì, sì, vuole fare comunque bene. Ecco, e questa è la piazza di San Lorenzo, la nostra grandissima piazza, e penso che qui ci sono altre cose. Piazza Europa. No, questo è il tuo lavoro. Grazie. Grazie.